Il missionario va senza sapere cosa l'aspetta, seguendo docilmente la voce dello Spirito, così come fece l'Apostolo Paolo dopo essersi congedato dagli altri per andare a Gerusalemme. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino, celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando il brano degli Atti degli Apostoli, in cui Paolo si congeda dagli altri Apostoli dopo aver ragionato con la propria coscienza davanti a Dio. È stato lo Spirito Santo, ha sottolineato il Papa, che lo ha messo sulla strada di Gerusalemme, spingendolo a bruciare la propria vita per l'annuncio del Vangelo. I missionari nostri, questi eroi della Vangelizzazione, i nostri tempi, l'Europa che ha riempito di missionari a altri continenti, e questi che se ne andavano senza tornare. Credo che è giusto che noi ringraziamo il Signore per la loro testimonianza. è giusto che noi ci rialegriamoci in questo di avere questi missionari che sono vero testimone. Io penso come è stato l'ultimo momento di questi, come questo. congedo come Saverio, ho lasciato tutto, ma valeva la pena. Anonimi si sono andati. Altri martiri. Cioè, offrendo la vita per il Vangelo. È la nostra gloria, questi missionari, la gloria della nostra Chiesa. Cioè, offrendo la vita per l'annuncio del Vangelo. Cioè, offrendo la vita per l'annuncio del Vangelo.